Musica Ciao a tutti ragazzi io sono Razor e benvenuti in questo nuovissimo video Allora questo è il sesto episodio della JustCraft quindi very very good E come al solito prima del video devo salutare alcune persone Quindi prendiamo il mio solito telefono e nel video di oggi devo salutare Niccolò Pitti, SuperMinecraft, Rickel2Herobrine, TheGamer, UnPanda, ZackYouTube, RacketCraft, TonyStarChannel, DemoHD82, Alfredo Cosentino e Davide Talluto Ovviamente ricordo a tutti che se qualcuno volesse essere salutato in questa serie basta scrivere hashtag salutami E io nel prossimo episodio appunto saluterò la persona in questione Detto questo ragazzi allora dato che è già da un bel po' di tempo che non vi porto questa serie ho fatto delle cose in off camera Prima di tutto mi sono fatto questa vetrata qua sopra quindi veramente molto figa almeno fa un po' di luce Poi adesso vi faccio vedere ecco cosa ho fatto In pratica mi sono fatto queste stradine di pietra Di pietra esatto Veramente è stato un casino perché guardate qui ancora la pietra Qui ad esempio ci sono ancora gli scalini, le lastre Le lastre appunto in pietra E niente appunto ho deciso di fare queste qua Giusto per rendere tutto molto più figo E ovviamente vi dico solo che queste cose le farò in off camera Perché non ha senso far vedere alla gente che io posiziono queste cose uno dietro all'altra Cioè è più figo far vedere la cosa Cioè il frutto dell'episodio Tipo andare in caverna, fare le farm eccetera eccetera E poi io in off camera appunto abbellirò il tutto Come potete vedere qui mi sono fatto appunto la stradina che mi porterà dall'altra parte del coso dell'acqua Tipo un ponticello figo Sì ci sta dai ragazzi E niente allora qui c'è la caverna Qui adesso andremo a scavare nell'episodio di oggi Comunque ho fatto accoppiare ancora una mucca Mi sono messo qui Qui invece ho fatto tipo dei cespugli Giusto per rendere tutto molto più figo E qui invece se vi ricordate c'era il pozzo L'ho spostato un po' più in giù e ho fatto tipo una cosa più figa Il pozzo quello lì dell'acqua infinita Quindi ci sta dai E niente in pratica poi qui ci sono tutte le altre stradine Dove fare tutte le altre cose E niente spero che questa cosa vi sia piaciuta Perché veramente non mi va di far vedere nel video che appunto metto ste cose Non ha senso E sarebbe tutto noioso e palloso esattamente Comunque ragazzi Cosa dobbiamo fare nell'episodio di oggi? Nell'episodio di oggi Intanto aspettate un attimo il grano No deve ancora crescere Vabbè comunque nell'episodio di oggi ho intenzione di andare in caverna Perché voglio trovare tipo dei del ferro per farmi appunto l'armore la spada eccetera eccetera Ho già 19 di lingotti ma non mi bastano E niente allora direi che posso farmi un po' di Mi farei tipo un po' di torcia Perché scarseggiano Si è vero Aiuto che palle Faccio sempre i big fail qua Comunque faccio così Facciamo Dai ne faccio fino a quando non mi bastano Perfetto 21 torcia Questo lo rimettiamo qua Poi dovrei farmi ancora un piccone di pietra Tanto so che non mi basterà questo Quindi facciamoci ancora gli stick Così Questo lo rimetto qua Prendo un attimo la pietra tanto ne ho Perfetto Allora questo e questo Perfetto Ok molto bene Allora mi sono fatto il piccone C'ho tutto Aspettate un attimo Direi che posso lasciare alcune cose Tipo la zappa L'ascia Perché tanto non mi servono Prendo il cibo Le torce Le mettiamo qua E Boh il pietrisco no Quindi lo rimetto qua Dov'era E niente ragazzi Allora che dire Ah facciamo ancora una cosa Facciamoci ancora un po' di pane Tanto Avendo la farm Sono abbastanza sicuro Ecco Perfetto Questo qua è molto decisivo Niente ragazzi Allora partiamo subitissimo Per la caverna Spero di trovare appunto Delle cose abbastanza fighe Perché vorrei farmi Iniziere a farmi un po' l'armor E magari qualche Qualche spadozza Eccetera eccetera Allora Torniamo nella caverna Che siamo già Cioè nella quale Siamo già venuti E direi tipo di scavare In profondità Tipo andiamo giù 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 Esatto Ah intanto Guardate qui Già Già il big In country Perfetto Allora Oh perfetto Due torce Cioè due 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 cose Esatto Allora Qui intanto vedo il carbone Prendiamolo sempre Il carbone è sempre molto utile Come potete vedere Allora Esattamente così Ok Perfetto Ok Grandissimo Allora Scendiamo di nuovo giù sotto Vediamo Qui mi sembra di essere già passato Però Aspettate un attimo Ok Ok Stiamo scendendo Però Oh che cavolo Dai vieni Dai fatti avanti Dai Dai fatti avanti Dai 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 Ok Eh sì Qui non è tanto bella la situa Oh guardalo 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 Non vedo nulla Raga Non vedo nulla Ok Inizio a vedere qualcosa Perfetto Devo tipo uccidere 80.000 cose Allora intanto Mettiamo torce dappertutto Questo Muori Ok Ok ho trovato del ferro Ho già visto del ferro Per terra Oh Oh cavolo Guardatelo qua Ecco Ecco Perfetto Allora Dobbiamo aspettare un attimo Che mi si rigeneri la vita Allora intanto qua Non c'è nulla Quindi sono sicuro Poi qua faccio così Di nuovo Che bello che sei Sei proprio bellissimo Oh 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 Sono a fin di vita Raga Oh cavolo Oh cavolo Oh cavolo No No la situa si sta facendo Cioè la situa sta degenerando Raga Oh qui c'è del carbone Devo aspettare che mi si rigeneri un attimo la vita Quindi aspettiamo qualche secondino Intanto Ehi Ehi John Oh 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 Allora mi fa paura No Ok Non mi vede Oh forse mi vede Ok è morto Ok è morto Mamma mia che paura Intanto vediamo Non c'è nulla di che Allora Devo 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 assolutamente scendere là Che ho visto del ferro No la spada mi sta finendo No La spada sta finendo Che Palle Vabbè facciamo così Un po' Tanto Non mi costa nulla Allora Dato che adesso Siamo messi già abbastanza Meglio Eh cosa facciamo allora Sì ma raga Ma qui c'è uno spawner Da qualche parte Non è fottutamente possibile Qui è scoppiato il creeper Perfetto Oh madonna Guardateli Cioè arrivano in quantità industriali Arrivano da sopra raga Anche da qui Eh sì dai Che cavolo è Che cavolo è Cioè io Io ammazzo Gli zombie Con il piccone Con il piccone Sì proprio lui Proprio lui E toliti dalle palle Pirletta Ok Ancora Bene Ti ho fatto vedere Che qui comando io Sì Proprio lui Comunque Non vedo niente Però non voglio Disprecare le torce Per ogni fottuta cosa Ok Aspetta Forse sarebbe meglio Sprecarle Sì esatto Vabbè comunque Allora qui continuiamo A trovare carbone Però io voglio Prendere il ferro Ma là ho paura Perché arrivano I mostri Ok Ok Voi non avete paura Perfetto Voi siete dei grandi Io sono un molle Allora Intanto mangio Una pagnotta Ok Continuiamo Con la Con Con il carbone Tanto 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 E figo Esatto Allora così Qua Perfetto Quanto C'è n'è Raga Ma Che palle Cioè Non voglio dir di no Però il carbone Alla fine è un po' rompe Dai Allora qui Allora vediamo Ok Ferro 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 Vai Prendiamolo Prendiamolo subito Così mi faccio già l'armor Poi mi faccio la spadozza Il piccone E poi E poi Negli episodi Successivi Anderemo in ricerca Del diamante Del diamante Sì avete capito bene Allora qua Cosa c'è Cosa c'è di interessante Là c'è la lava Là c'è altro ferro Eh sì Qua forse Troveremo Oh 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 Ok Oro Oro Ferro Prendiamolo subito Tutto Ok Eh sì Dai Qua sta andando Abbastanza bene La cosa Dai L'oro lo prendo così Magari posso fare le pepite E di conseguenza Mi potrò appunto fare Eh le Le mele dorate Esattamente così Allora Continuiamo qua Lava Quindi Fra poco Dovremmo trovare Diamante Il diamante Però Non è l'obiettivo di questo episodio Quindi torniamo su Dove c'era l'altro ferro Dove c'erano tutti i mostri Qui c'è altro carbone Prendiamo anche questo Tanto oramai Cioè io sono una fabbrica di carbone Esatto Allora Così Sì Proprio così Sì che mi piaci Dai Ok basta Raga Non posso prendere solo carbone Allora Torniamo subito su Ferro Ho perso un blocco qua Non l'ho Non l'ho visto Però vabbè Continuiamo a prenderlo Allora Ok Sì dai ci sta Vediamo subito quanto ne ho Ne ho già 13 Contanto che a casa Ne ho tipo 19 Di lingotti Forse potrei già farmi Tutta l'armor Ma non ne sono sicuro Quindi Prendiamo ancora L'altro ferro Che avevo notato prima Qua Eccolo 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 Perfetto Attento No Ho paura Ho paura Vabbè mettiamo Un'altra torcia Dai Devo fare Devo essere velocissimo Perché qui Arrivano Te l'ho detto che arrivano E dai Muori Infame Ok Doviamo prenderlo velocissimo Perché veramente No Veramente solo 4 blocchi Vabbè Altro carbone Ok Poi andiamo In qua Perfetto Altro 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 ferro Mamma mia Ma ce n'è veramente tantissimo In questa caverna Fighissimo Fighissimo Ok No 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 Ok Sì Così Perfetto Cioè Ho fatto fuori Tutte le torce E vabbè Eccolo Sì Qua non c'è più nulla No Esatto Quindi Andiamo In qua Ok Altro ferro Perfetto Diciamo che questa Questa Cavernata Esatto Sta andando alquanto bene Cioè Ragazzi 29 pezzi di ferro E Aspettate un attimo E vabbè Dov'è l'oro Ah è vero Non si può prender l'oro Ma quanto sono stupido Ok Altro ferro Intanto trovo altro ferro Perfetto Altro ancora Ok E niente ragazzi Allora Che dire Direi che siamo messi abbastanza bene Quindi Eh Fatto questo Dai Prendiamo ancora Proprio Dai Riamo ai 40 Di carbone Esatto E poi Torniamo a casa A casa Cosa devo fare Sì esatto Avete capito bene Devo craftarmi L'armor Quindi Ci vediamo A casa Ok ragazzi Allora siamo a casa E sta per finire Di cuocere tutto il ferro Mancano 7 lingotti E nel mentre Volevo fare soltanto una cosa Che mi sembra Molto carina Quindi Faccio subito vedere Intanto prendiamo di nuovo Le assi E facciamoci I bastoncini Dopodichè Facciamo una roba simile A questa Aspettate un attimo Devo prendermi anche questo Ok Molto bene E in pratica Cosa dobbiamo fare Dobbiamo fare Questa cosa Allora aspettate Ok Abbiamo fatto il supporto Per l'armatura E' una cosa molto figa Della 1.8 Quindi Adesso vi faccio subito vedere In pratica Me la metterò qua E in pratica Qua mi metterò L'armatura Per ora Non la userò ancora Magari la userò Poi quando tipo Non so Andrò in caverna Eccetera 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 E E niente Allora in pratica Adesso Deve finire di cuocere Ok Manca poco Allora intanto Prendiamo tutto questo E iniziamo subito A farci L'armatura Appunto Quindi facciamo così Poi facciamo I gambali Ok Perfetto Poi Questo Ok E poi facciamo I piedini Perfettamente Adesso andiamo subito A riposizionare Tutto qua sopra Molto figo Esatto Ecco Guardate quanto è figo E poi prendi le cose E te le metti E' una cosa molto figa E' tipo un armadio Quindi GG Very very good E niente Allora finiamo Ancora questi Due ringotti Ok Abbiamo finito Esattamente E Già che ci sono Mi faccio ancora una cosa In pratica Vorrei fare la spadozza Quindi No aspettate Ho sbagliato di nuovo Allora vorrei farmi la spadozza Quindi prendiamo questo In questo modo Facciamo Così Perfetto E Quasi quasi Mi faccio anche già Il piccone Perfetto Così abbiamo già Un bel po' di cose fatte E Niente ragazzi Allora Riposizioniamo tutto Nelle ceste Questo lo mettiamo qua Perfetto Il cibo Vabbè Questo qua Il cibo qui E Niente ragazzi Allora Che dire Per questo video è tutto Spero vi sia piaciuto Come sempre Lasciatemi delle cose Che potrei appunto fare Tipo farm Eccetera eccetera Niente Noi ci vediamo in un prossimo video Da Razer è tutto Mettete in piace Commentate Iscrivetevi al canale Mettete in piace Alla pagina facebook E Niente Ciao ciao